Il Comune di Agrigento ha pubblicato l'avviso pubblico di interesse per l'allestimento dei mercatini di Natale in città. Ascoltiamo in proposito la Vice Sindaco, Elisa Virone. Abbiamo cercato anzi quest'anno di partire con un anticipo che consentisse di avere maggiore spiraio e spazio di organizzazione. Già dal 31 ottobre scorso è stato pubblicato il bando per l'occupazione di spazi ai fini dell'organizzazione dei mercatini di Natale, che sono una realtà che negli ultimi anni in qualche modo ha assunto ormai una sua piccola forma. Abbiamo individuato quelle che sono le aree della città che possono essere occupate a tal fine. Abbiamo previsto a fianco dell'occupazione di queste aree delle attività di carattere collaterale che animino il centro della città, le vie cittadine con delle specifiche iniziative durante il periodo natalizio. Si stanno affiancando dei movimenti e dei processi legati a soggetti privati che in qualche modo sosterranno anche essi delle iniziative e delle attività durante il periodo natalizio. Chiaramente in questo momento non è ipotizzabile impiegare risorse a tale finalità, però come negli altri anni e anche in quest'anno stiamo riuscendo a mettere su un piccolo sistema che dia traccia e forma di Natale anche nella nostra città. È un bando che scade il prossimo 23 novembre, per cui c'è ancora del tempo per partecipare. Verranno preferite tendenzialmente le richieste volte omogeneamente ad occupare o di impegnare le zone che sono indicate in bando, ma potranno partecipare anche singoli soggetti operatori. I costi di occupazione sono costi molto contenuti, però diventa un bel modo per dare segnare di vivacità in città e di presenza durante il periodo delle festività natalizie.